Sottotitoli e doppiaggio Carlo Fanni Il video di oggi si intitola Cambiando la parola è un argomento piuttosto serio e che fa scaldare la gente I versetti biblici coinvolti circa 909 nella New American Standard Bible sono molti Versione riveduta 788 Traduzione del Nuovo Mondo 767 NIV 695 Good News Bible 614 Amplified Bible 484 La Bibbia dei Gesuiti, la 2A ha meno modifiche della New American Standard meno della metà sorprendente I riformatori avevano rifiutato la Bibbia 2A ma ora si è felici di accettare queste altre Molto strano La vecchia Bibbia dei Testimoni di Geova aveva solo 120 versetti coinvolti e quando uscì ci fu un enorme urlo per i massicci cambiamenti Ma oggi nessuno si rende conto dei 909 versi coinvolti che in confronto rendono i 120 versetti roba per l'asilo La New King James ignora i testi ricevuti 1200 volte La Bibbia dei Testimoni di Geova è la prima ad essere stata cambiata Matteo capitolo 16 verso 3 Da là in poi hanno rimosso quel versetto Ora tralasciamo il testo Li vedremo dopo Tutto ciò che è stato cambiato nella Bibbia dei Testimoni di Geova vale anche per le altre Bibbie O è screditato con le note a margine Loro hanno tolto Matteo capitolo 16 verso 3 Nel Vangelo di Marco hanno tolto il versetto 46 Cancellato In Marco 16 dal verso 9 al 20 hanno tolto tutto il capitolo Perché Gesù appare fisicamente dopo la risurrezione Ed è un problema Il mondo esoterico insegna che non esiste una risurrezione fisica ma una esoterica Un Gesù fisico risuscitato dai morti è un problema Quindi via tutto il capitolo E modificano gli altri capitoli che non sono così evidenti sulla questione Se avete una delle traduzioni moderne nel margine dicono che questa parte non si trova nei Manoscritti più antichi Ma nel video precedente abbiamo visto che i Manoscritti più antichi erano corrotti perché modificati da origine Giovanni capitolo 1 verso 1 Traduzione del Nuovo Mondo La Bibbia dei Testimoni di Geova Cito In principio era la parola e la parola era con Dio e la parola era un Dio Cito la King James o la Nuova Diodati Nel principio era la parola e la parola era presso Dio e la parola era Dio Nella King James la Nuova Diodati Gesù era Dio Ma nella traduzione del Nuovo Mondo era un essere minore con la G minuscola Giovanni capitolo 8 dal verso 1 all'11 Manca tutto il capitolo Prendete una penna e cancellatelo Non serve più C'è qualcosa di meglio Atti 8.37 Nella Bibbia dei Testimoni di Geova è stato rimosso perché Gesù è l'unica via per essere salvati Manca anche nelle altre Bibbie Prima Giovanni capitolo 5 verso 7 È un grosso problema perché Gesù è parte della divinità scomparso Parleremo anche degli altri I Testimoni di Geova hanno cancellato tutti questi versetti rilevanti intere porzioni di capitoli e interi capitoli All'epoca questa cosa fece tanto scalpore ma le Bibbie di oggi sono peggiori e nessuno si lamenta Non è strano? Cito Dublin Review 1881 Con l'unica autorità della critica testuale Non con le parole ma con la critica testuale Questi uomini hanno osato respingere 40 versetti della parola ispirata Era all'inizio ma ora i versetti sono centinaia La professione battesimale dell'eunuco è scomparsa L'angelo della piscina di Bethesda è scomparso Ma resta l'angelo dell'agonia Fino alla revisione successiva I Testimoni Celesti sono andati via E nessuna nota a margine piange alla loro scomparsa Gli ultimi 12 versi di Marco sono staccati dal resto del Vangelo Pronti per essere rimossi con la morte di Dean Burgon Nel video precedente ho citato molto Dean Burgon E dopo la sua morte ne cambiarono molti di più Il racconto della donna accolta in adulterio è tra parentesi Aspettando la cancellazione Molti altri passaggi hanno note a margine Per dimostrare che, come gli alberi Saranno abbattuti dall'ascia della critica Chissà quando cesserà la distruzione? Era il 1881 Era l'inizio della revisione della Bibbia Incredibile Vediamo cosa dicono le moderne società bibliche Novum Testamentum Grecae Società biblica tedesca di Stoccarda Cito Quando nel 1898 Eberhard Nestel Presentò la prima edizione del Novum Testamentum Grecae Realizzò un'opera Le cui conseguenze non erano conosciute da lui Né dalla società biblica di Wittenberg Che rese possibile l'edizione Se a quel tempo i difensori del testo ricevuto Erano ancora numerosi La scienza Notate La scienza del XIX secolo aveva finalmente dimostrato Che era il peggior testo del Nuovo Testamento I testi ricevuti che resistettero alla prova del tempo fino al 1900 Ora improvvisamente erano il testo peggiore Le edizioni di Tischendorf Colui che scoprì quel testo spazzatura nei rifiuti Sul quale si basano tutte le Bibbie moderne dal 1841 Terminarono l'edizione eccetera eccetera Westcott e Hort nel 1881 controllavano il campo Ma a livello di università, chiesa e scuola I textus receptus I testi ricevuti Erano ancora ampiamente usati A livello internazionale Esempio dalla British Bible Society fino al 1909 Indipendentemente dai cambiamenti Non cambiò facilmente Solo con la pubblicazione del testo greco Nestle Anche qui finì il dominio dei testi ricevuti Con grande gioia negli ambienti cattolici Che finalmente riuscirono a distruggere i testi ricevuti L'enciclopedia britannica parla di origine Lo vedremo tra poco I testi ricevuti Textus receptus Sono l'antico testo bizantino Con centinaia di copie concordanti Era scritto in greco koine Cioè greco comune Di cui centinaia di parole Non possono essere tradotte in greco classico La chiesa primitiva usava monoscritti Greci koine E rifiutava le versioni alessandrine Basate sulle versioni corrotte Di origine E di altre revisioni gnostiche L'enciclopedia britannica dice Che origine insegnava Che Gesù era un essere creato Che non aveva un'esistenza eterna come Dio Questa è la base Se vuoi una Bibbia ecumenica Devi eliminare Gesù Cristo Come unico salvatore E come Dio Cosa dice la Bibbia Su queste iniziazioni segrete? Isaia 45-19 Io non ho parlato in segreto In un angolo oscuro della terra Non ho detto alla progenie di Giacobbe Cercatemi in vano Io, l'Eterno, dico ciò che è giusto E dichiaro le cose che sono rette Suona bene Mi piace Isaia 48-16 Avvicinatevi a me Ascoltate questo Fin dal principio non ho parlato in segreto Quando questi fatti avvenivano Io ero là E ora il Signore, l'Eterno E il Suo Spirito mi hanno mandato Dio non ha segreti Amos 3-7 Poiché il Signore, l'Eterno Non fa nulla Senza rivelare il Suo segreto Ai Suoi servi profeti Marco 4-22 Nuovo Testamento Poiché non c'è nulla di nascosto Che non sia manifestato Né nulla di segreto Che non sia palesato Luca 8-17 Poiché non vi è nulla di nascosto Che non sarà manifestato Né di segreto Che non debba essere conosciuto E portato alla luce Luca 11-33 Or nessuno quando ha acceso una lampada La mette in un luogo nascosto Sotto il moggio Ma sul candeliere Affinché coloro che entrano Vedano la luce Giovanni 7-4 Nessuno infatti fa alcuna cosa in segreto Quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente Se tu fai tale cose Palesati al mondo Quale dottrina preferisci? Quella degli illuminati Degli iniziati O quella della Bibbia Quale Dio vuoi servire? Il Dio degli iniziati O il Dio della Bibbia? A me piace Lui Gesù Cristo Gesù disse in Giovanni 18-20 Gesù gli rispose Io ho parlato al mondo apertamente Ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio Dove tutti i giudei si radunano E non ho detto niente in segreto Quale Dio preferisci? Io preferisco questo Io odio la segretezza Questa religione clandestina Io so più di te È disgustoso Dicono Io conosco il percorso e non mi interessa di te Perché sei un ignorante Vediamo come questi iniziati Hanno cambiato le cose Per nascondere la verità al mondo Quali versetti hanno cambiato? Vediamo i più semplici E poi approfondiamo sempre di più Ricorda alcune cose Hort ha detto La modificheremo leggermente Una parola qui E una lì E nessuno se ne accorgerà Infine Quando avremo fatto Avremo tutti questi piccoli cambiamenti In un unico posto E leggendolo tutto Ci sarà la nostra dottrina Non la loro È proprio ciò che ha detto New International Version Seconda Samuele 21-19 Ci fu di nuovo battaglia Con i filistei Agob Ed Elkanam Uccise Goliath di Gath Ups Chi l'ha ucciso? Ups Chi l'ha ucciso? Elkanam Figlio di Iare Oregim Iare Oregim Bibbia King James O la nuova Diodati Ci fu un'altra battaglia Con i filistei Agob Ed Elkanam Uccise il fratello di Goliath Di Gath Chi ha ucciso Goliath? Davide Quindi preferite la King James La nuova Diodati? NIV Seconda Samuele 23-5 Non è la mia casa giusta con Dio? Sebbene la mia casa non sia così con Dio Loro ribaltano tutto Se Dio dice che non è giusto La New International Version dice è giusto Ancora New International Version Osea 12-1 Giuda pure è sempre incostante di fronte a Dio King James Ma Giuda signoreggia ancora con Dio Ed è fedele con i Santi Efraim e Israele mi hanno lasciato Ma Giuda è con me Ma a Satana non piace Emette che erano tutti contro Dio È un piccolo cambiamento Ma è piuttosto importante O sei con Dio O sei contro Dio Revised Standard Version Matteo 5-44 Ma io vi dico Amate i vostri nemici E pregate per quelli che vi perseguitano King James Ma io vi dico Amate i vostri nemici Benedite coloro che vi maledicono Fate del bene a coloro che vi odiano E pregate per coloro che vi maltrattano E vi perseguitano Lo hanno tolto E manca tutta la storia Matteo 18-11 Questo è un testo importante Poiché il figlio dell'uomo È venuto per salvare ciò che era perduto È un testo importante È un testo molto importante Perché nella versione standard È sparito? Perché Gesù non deve essere l'unico salvatore La massoneria insegna Che noi ci salviamo da soli Non abbiamo bisogno di Gesù Per loro è ridicolo È solo un esempio Matteo 20-16 Revised Standard Version Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi Carino King James O la nuova di Odati Così gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi Perché molti sono chiamati Ma pochi eletti Qui è importante scegliere ciò che è giusto Nella RSV non c'è alcuna differenza Ma nella King James potresti perderti Se non fai la scelta giusta Qual è la corretta? Quindi eliminano la scelta Matteo 20-22-23 NIV Voi non sapete ciò che domandate Potete voi bere il calice che io sto per bere? Essi gli dissero Sì, lo possiamo Carino King James Voi certo berrete il mio calice E sarete battezzati del battesimo Di cui io sarò battezzato Ma sedere alla mia destra O la mia sinistra Non sta a me concederlo Ma è riservato a coloro Per i quali è stato preparato dal Padre mio Un altro Gesù disse Voi non sapete ciò che domandate Potete voi bere il calice che io sto per bere? Ed essere battezzati del battesimo Di cui io sarò battezzato? Puoi essere battezzato come me? Puoi soffrire la sofferenza per amor mio? Matteo 25,13 RSV Vegliate dunque perché non sapete né il giorno né l'ora Può il Dio dell'universo mettere un tale versetto nella Bibbia? Vegliate perché non sapete né il giorno né l'ora Di cosa? Pronto? Di cosa? King James In cui il figlio dell'uomo verrà Ha senso? Qual è il versetto più logico? King James O la nuova Deodati Revised Standard Version Non sapete né il giorno né l'ora In cui verrà il gelataio? Ma nella King James O la nuova Deodati È importante In cui il figlio dell'uomo verrà Continuiamo New International Version Matteo 24,36 Ma quanto a quel giorno e a quell'ora Nessuno li sa Neppure gli angeli del cielo Neppure il figlio Ma solo il padre Neppure il figlio Ora leggiamo la King James O la nuova Deodati Quanto poi a quel giorno e a quell'ora Nessuno li conosce Neppure gli angeli dei cieli Ma soltanto il padre mio Dov'è neppure il figlio? Non c'è Quando Gesù dice Io e il padre siamo uno Cosa significa di questo versetto? Gesù sa quando verrà Assolutamente sì Ma cosa implica neppure il figlio? Che Gesù non fa parte della divinità Capite? Implica che Gesù non fa parte della divinità E' un grave cambiamento Marco 2,17 Io non sono venuto a chiamare i giusti Ma i peccatori Che carino Ciao peccatori Venite da me NIV Io non sono venuto a chiamare i giusti Ma i peccatori King James O la nuova Deodati Io non sono venuto a chiamare i giusti Ma i peccatori A ravvedimento Qui c'è un'azione Mentre le altre sono ecumeniche Facciamo tutti festa Non importa se credi O servi la stessa cosa Qualunque cosa sia Se vai a letto con 50 donne contemporaneamente A chi importa? No, no, no La King James dice A ravvedimento L'hanno tolto Non gli serve Loro sono iniziati Sono al di sopra Marco capitolo 6 Verso 11 King James O la nuova Deodati Se poi alcuni non vi ricevono E non vi ascoltano Andando via di là Scuotete la polvere Dai vostri piedi In testimonianza Contro di loro In verità Vi dico che Nel giorno del giudizio Sodoma e Gomorra Saranno trattate Con più tolleranza Che quella città Perché hanno rimosso quel versetto? Perché tolgono il versetto Dove sarà più tollerabile Per Sodoma e Gomorra? Perché non credono in un Giudizio A chi importa Delle scelte che fai Loro credono Nella reincarnazione La prossima volta Potrai sistemare Qualunque sbaglio di oggi E se non ce la farai La prossima volta Potrai bruciare Tutto in purgatorio Quindi Tolgono il giudizio Problema risolto E modificano Quel testo Vedete quanti pezzi Mancano? Qui non parlo Di versi interi Sono parti Di versetti Eccetera Marco 1021 Revised Standard Version Vieni e seguimi NIV Poi vieni e seguimi ASV Vieni e seguimi King James O la nuova Deodati Poi vieni Prendi la tua croce E seguimi Qual è la differenza? Quando diventi cristiano C'è un cambiamento Nella vita E c'è una croce Da portare Questo È il cristianesimo L'altro è salvezza Nel peccato Una grande festa felice Marco 1021 Perché toglierlo? È incredibile L'hanno tolto Marco 1024 RSV Figliuoli Quanto è difficile Entrare nel regno di Dio NIV Quanto è difficile Per i ricchi Entrare nel regno di Dio Wow Anche peggio King James O la nuova Deodati Figli Quanto è difficile Per coloro Che confidano Nelle ricchezze Entrare nel regno di Dio Qual è la differenza? Qui ti arrendi Dall'inizio E puoi reincarnarti Un paio di volte Qui Meglio non arricchirsi Dai via tutti i soldi Qui Il problema Non sono i soldi Il problema È fare dei soldi Un idolo Puoi essere ricco Ma puoi lavorare Molto per Dio La King James È l'unica Ad avere senso Gli altri Sono scoraggianti Il mio Dio Incoraggia Ma loro L'hanno cancellato Non serve Dopotutto Se loro devono Mandare avanti I monasteri E i conventi È meglio Togliere quel versetto Marco 1314 Quando poi vedrete Il sacrilegio desolante Posto laddove Non deve stare Questo è affascinante Ora la King James Or quando vedrete L'abominazione Della desolazione Predetta dal profeta Daniele Posta Dove non dovrebbe essere Perché toglierlo? Perché Gesù Indica due libri Apocalittici precisi Che dovremmo studiare Per la fine dei tempi Il libro di Daniele È il libro Dell'Apocalisse In Apocalisse Dice Beato chi legge Beati coloro Che ascoltano Le parole Di questa profezia E dice Predetta dal profeta Daniele Guarda là E troverai Le risposte Perché chiesero Qual è il segno Della tua venuta Della fine dei tempi? Gesù disse Controllatelo Nel libro di Daniele Hanno tolto le prove A loro Non piace Quella profezia Luca 2.14 Revised Standard Version Gloria a Dio Nei luoghi altissimi E pace in terra Agli uomini Che egli gradisce King James Gloria a Dio Nei luoghi altissimi E benevolenza Verso gli uomini Qual è la differenza? È un cambiamento Molto sottile Ma qual è? Qui Dio Si compiace Con i pochi iniziati Nella King James Dio è per tutti Non per due classi La riveduta È per gli iniziati Questo è per il popolino Cambiamolo Capite? È davvero disgustoso Ciò che fanno E non è in armonia Con il carattere di Dio Luca capitolo 4.4 Non riguarda la grammatica Ma il principio Luca 4.4 Revised Standard Version Sta scritto Non di pane soltanto Vivrà l'uomo NIV Gesù gli rispose Sta scritto Non di solo pane Vivrà l'uomo Ora la King James O la nuova Diodati L'uomo non vivrà Soltanto di pane Ma di ogni parola Di Dio L'hanno rimosso Per non rimproverare Loro stessi E l'hanno tolto Oggi la parola Non è importante La parola è casuale Importa ciò che ti senti Ciò che senti è giusto Dio ti guiderà Attraverso il suo spirito Tutte le religioni Portano alla fonte Fidati dei tuoi sentimenti Dimentica la Bibbia E ciò che il mondo Insegna oggi Ma se confidi In ogni parola Di Dio E' meglio sapere Ciò che Dio vuole E cambiare Adeguatamente Secondo Timoteo 3.16 ASV Ogni scrittura Ispirata da Dio E' anche utile A insegnare King James Tutta la scrittura E' divinamente ispirata E utile a insegnare Hanno cambiato Una parolina Qual è la differenza? Una piccola parola Hort disse Cambieremo un po' qui Un po' là E non se ne accorgeranno Dopotutto Sono così stupidi Che non lo noteranno Cos'è? King James Solo la scrittura Ispirata da Dio E' utile Si fa una distinzione Nella ASV Decidono gli iniziati Ecco perché il Papa Dirà cosa devi credere Tu non puoi leggere da solo Altrimenti Sei un eretico Fai la tua scelta Questa è eresia Devi morire Tutta la scrittura E' divinamente ispirata E' utile a insegnare Luca capitolo 9 Versi 55 e 56 Guardate cosa scompare RSV Ma si voltò e li sgridò Poi andarono in un altro villaggio NIV Ma Gesù si voltò e li rimproverò Poi andarono in un altro villaggio Sai Oltre ad essere strano E' un versetto stupido E' stupido King James Ma egli si voltò verso di loro E li sgridò dicendo Voi non sapete di quale spirito siete Poiché il figlio dell'uomo Non è venuto per distruggere le vite degli uomini Ma per salvarle Poi andarono in un altro villaggio Quale per voi ha più senso? Quale è più importante? Questo ha potere Questo ha un salvatore Ha una risposta a tutti i tuoi problemi Gli altri non hanno alcuna risposta Potrebbe anche mancare nella Bibbia Non credo che Dio abbia mai messo qualcosa di così ridicolo Luca 22 Versetti 43 e 44 Spariti Non c'è nella RSV? Allora gli apparve un angelo dal cielo per dargli forza Ed egli essendo in agonia Pregava ancora più intensamente E il suo sudore divenne simile a gocce di sangue che cadevano a terra Perché rimuoverli? Loro non credono nell'espiazione Quindi non credono che Gesù abbia versato una goccia di sangue per voi Hort disse Basta con quella disgustosa dottrina dell'espiazione Questi sono cambiamenti seri E Dio dice che chi tocca la sua parola in questo modo Rimuovendo Gesù Cristo dal Vangelo La pagherà Giovanni 10,14 Io sono il buon pastore Conosco le mie E le mie conoscono me King James Io sono il buon pastore E conosco le mie pecore E le mie conoscono me C'è una sottile differenza In vista delle parole successive Come il padre conosce me E io conosco il padre Questo cambiamento distrugge la squisita diversità di espressione nell'originale Ha senso grammaticale E dà la relazione tra padre e figlio Ovvero Gesù è Dio E' un cambiamento sottile per rimuovere parte del potere di Gesù Cristo Atti 28,28 Sappiate dunque che questa salvezza di Dio è mandata ai gentili Ed essi l'ascolteranno La King James continua dicendo Quando ebbe dette queste cose I giudei se ne andarono avendo tra di loro un'accesa discussione Perché la RSV ha rimosso il verso 29 Ve lo spiego Perché quando decidi a favore o contro l'argomento Creerà divisione Sarà divisivo Avendo tra di loro un'accesa discussione Ma lo spirito ecumenico dice Tutti uniti Come un'unica famiglia felice Nella King James si crea una separazione Capite? E' molto importante Gesù fa la differenza Il Vangelo è una spada a doppio taglio Che taglia fino al midollo La gente decide in base ai fatti E si sposta da una parte o dall'altra Ecco perché in una Bibbia ecumenica Doveva sparire il versetto 29 Perché loro ragionavano E si divisero Prima Corinzi 10.28 Ma se qualcuno vi dice Questo fa parte delle cose sacrificate Per riguardo a colui che vi ha avvertito E per motivo di coscienza Eccetera King James Ma se qualcuno vi dice Questo fa parte delle cose sacrificate agli idoli Non ne mangiate Per riguardo a colui che vi ha avvertito E per motivo di coscienza Perché la terra e tutto ciò che essa contiene E' del Signore Perché nella Bibbia ci sono certe regole? Perché è Dio che possiede il mondo Fa riferimento a Gesù Cristo Ma loro non lo vogliono Gli esoterici, la massoneria Hanno un altro Dio Quei versetti in cui Gesù è raffigurato Come Signore di questa terra Vengono tolti dalla Bibbia Apocalisse 14, verso 5 Sulla loro bocca non è stata trovata menzogna Perché sono irreprensibili RSV NIV nella loro bocca non è stata trovata menzogna Sono irreprensibili King James Sulla loro bocca non è stata trovata menzogna Perché sono irreprensibili davanti al trono di Dio Qui c'è una responsabilità Verso un potere superiore Nelle rivedute non c'è responsabilità Essere responsabile verso te stesso non significa nulla Nella King James O la Nuova Deodati Chi governa è importante Apocalisse 22,14 Ha un cambiamento radicale Beati coloro che lavano le loro vesti Spero usino il sapone giusto Non so quale marca abbiate qui Ma forse fa la differenza King James O Nuova Deodati Beati coloro che mettono in pratica i suoi comandamenti Per avere diritto all'albero della vita Per voi qual è quella corretta? Nelle rivedute non c'è responsabilità Con cosa lavi le tue vesti? Quale sapone usi? Beati coloro che mettono in pratica i suoi comandamenti E' ubbidienza Nelle rivedute E' sparito Luca capitolo 4 verso 8 Ma Gesù rispondendo gli disse Vattene via da me Satana Sta scritto Adora il Signore Dio tuo e servi a lui solo Ora la duei Il prodotto della Bibbia dei Gesuiti E Gesù gli rispose e gli disse E' scritto Adorerai il Signore tuo Dio e servirai lui solo Cosa manca? Manca qualcosa RSV Stessa cosa Sta scritto Adorerai il Signore tuo Dio e lui solo servirai NIV Sta scritto Adora il Signore Dio tuo e servi lui solo In tutte queste manca qualcosa Vattene via da me Satana Perché toglierlo? Questa frase era stata tolta perché Gesù più tardi Usò la stessa espressione rivolta a Pietro in Matteo capitolo 16 verso 23 Per rimproverarlo Ciò riguarda la dottrina di Pietro Che viene fatto Papa della Chiesa Cattolica E' una questione piuttosto complessa Ma hanno un buon motivo per togliere quella parte Atti 13, 42 Riguarda il riposo del sabato Questo piccolo cambiamento è sottile Ma è molto importante per chi osserva il sabato del settimo giorno King James Quando i giudei furono usciti dalla sinagoga I gentili li pregarono che il sabato seguente Fossero loro proposte le stesse cose Ricordate, i loro cambiamenti non si basano sui documenti greci Le modifiche di questi individui hanno uno scopo Cito la Duai, la Bibbia dei Gesuiti Mentre uscivano, essi volevano che il sabato seguente Dicessero le medesime parole L'RSV è uguale Mentre uscivano, furono pregati di parlare di quelle medesime cose il sabato seguente NIV, mentre Paolo e Barnaba uscivano dalla sinagoga La gente li invitò a parlare ancora di queste cose il sabato successivo Nella King James, o la Nuova Diodati, è scritto Quando i giudei furono usciti dalla sinagoga Cosa significa? Che predicavano agli ebrei Poi vennero i gentili e chiesero di predicarlo a loro il sabato seguente Ciò significa che i gentili erano disposti a venire di sabato Ma togliendo gli ebrei, non è necessariamente il sabato di riposo Potrebbe essere un incontro ecumenico E il sabato un giorno qualunque Ma collegandolo agli ebrei, che giorno sarebbe? Sabato Sarebbe sicuramente sabato Un piccolo cambiamento Questa gente è scrupolosa È un errore? Non credo Leggero cambiamento, ma potente Atti 16, verso 7 Giunti ai confini della Misia Essi tentavano di andare in Bitinia Ma lo Spirito non lo permise loro Duei Giunti ai confini, eccetera Ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro Anche RSV e NIV dicono la stessa cosa Perché? Bisogna comprendere la mentalità occulta Qui lo Spirito, lo Spirito di Dio Dice loro di no Nelle rivedute c'è lo Spirito di Gesù Gesù è controllato dallo Spirito E lo Spirito dice loro cosa fare Ma nella King James Lo Spirito dice di no E se Gesù ha detto di no Allora Lui e lo Spirito sono una cosa sola Prima Corinzi, capitolo 5, verso 7 Togliete via dunque il vecchio lievito affinché siate una nuova pasta Come ben siete senza lievito La nostra Pasqua, infatti, cioè Cristo, è stata emolata per noi Duei Poiché Cristo, la nostra Pasqua, è stato emolato RSV Perché Cristo, il nostro Agnello Pasquale, è stato sacrificato NIV Cristo, il nostro Agnello Pasquale, è stato sacrificato Quindi, cosa manca? Per noi L'esclusività di Gesù deve sparire Triste situazione La frase Attraverso il suo sangue non si trova Né nella versione gesuita Né nella versione riveduta americana La sua omissione risale a origine 200 d.C. Che nega espressamente che il corpo O l'anima del nostro Signore Siano stati offerti come prezzo Della nostra redenzione Gli occultisti insegnano che Gesù non è mai morto per te Insegnano che Gesù aveva un corpo esoterico Non è venuto nella carne Ma la Bibbia dice che chi dice che Gesù non è venuto nella carne È Anticristo Gli occultisti insegnano che quando fu appeso alla croce Sembrava appeso lì Per gli ebrei Ma Dio lo portò via prima che morisse Quindi non morì mai per te Capite la differenza? Quindi Lui non è stato sacrificato per noi Perché esotericamente non è mai morto per noi Perché non ne abbiamo bisogno Tu sei Dio È un'arroganza ai massimi livelli La potenza di Dio è negata Prima Pietro capitolo 1 verso 22 King James Avendo purificato le anime vostre con l'ubidienza alla verità mediante lo spirito Per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione Amatevi intensamente gli uni gli altri di puro cuore RSV Avendo purificato le anime vostre con la tua ubbidienza alla verità Eccetera eccetera NIV Dopo aver santificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità Per amarvi sinceramente come fratelli Amatevi intensamente di vero cuore gli uni gli altri Nelle rivedute l'ubidienza è ottenuta attraverso la purificazione di voi stessi Nella King James L'ubidienza è possibile attraverso il potere di Dio Attraverso lo spirito Secondo te qual è quella corretta? Quale preferisci? Cosa cambiano? Nelle rivedute il cambiamento non è fatto da Dio Da Cristo o in te Ma è il tuo potere Rivedute uguale occulto King James uguale biblico Seconda Timoteo 4.1 Ti scongiuro dunque davanti a Dio e al Signore Gesù Cristo Che è ad aggiudicare i vivi e i morti Alla sua apparizione Questo è un piccolo cambiamento molto importante Una parolina Alla Della King James Nelle rivedute c'è attraverso Questo fa la differenza Alla sua apparizione nel suo regno King James Ti scongiuro davanti a Dio e Gesù Cristo Che giudicherà i vivi e i morti Attraverso la sua venuta e il suo regno Ares V La stessa cosa Ena e V In vista di Ciao Cosa implica? Che il giudizio si terrà quando Gesù tornerà Mentre cosa implica la King James O la nuova Diodati? Qualcosa di diverso Vediamo La King James fissa il grande giorno del giudizio Al momento della sua apparizione E del suo regno Invece i Gesuiti e le versioni rivedute Lo collocano in un futuro indefinito Infatti il cattolicesimo insegna Che non esiste il millennio Che la Chiesa cattolica Domina come regno Punto importante Che ovviamente non è biblico Quindi queste cose devono essere cambiate Per allinearle al pensiero cattolico Ebrei 721 King James Quelli infatti diventavano sacerdoti senza giuramento Ma costui con giuramento da parte di colui che gli ha detto Il Signore ha giurato e non si pentirà Tu sei sacerdote in eterno Secondo l'ordine di Melchizedek Quindi Gesù era un sacerdote di un ordine diverso Superiore Perché solo i Leviti potevano essere sacerdoti Gesù era della tribù di Giuda Essendo della tribù di Giuda Come poteva essere sacerdote? Ma lui era di un ordine superiore Dell'ordine di Melchizedek Re di Salem Cito la 2 Tu sei sacerdote per sempre Dov'è il resto? RSV Tu sei sacerdote per sempre NIV Sì, tu sarai sacerdote per sempre Secondo l'ordine di Melchizedek Scomparso Quindi Gesù non ha un sacerdozio superiore Sapevate che i massoni Quando sono iniziati Sono dell'ordine di Melchizedek? Sapevate che quando un mormone È iniziato ai gradi superiori È dell'ordine di Melchizedek? Quindi sono più alti di Gesù? Affascinante Loro abbassano Gesù Cristo Giovanni 539 King James Investigate le scritture Perché in esse voi pensate di avere vita eterna RSV Voi investigate le scritture Perché pensate che in esse abbiate la vita eterna NIV Studiate le scritture Perché pensate che attraverso di esse Abbiate la vita eterna Qual è la differenza? Nella King James c'è un comando Cerca nelle scritture Perché pensate di avere per mezzo di esse Vita eterna Nelle rivedute È per gli iniziati Su questo argomento Il Dublin Review Se ne accorge È un articolo cattolico Luglio 1881 Cito Ma forse il cambiamento più sorprendente di tutti È Giovanni capitolo 5 verso 39 Che abbiamo letto Non si tratta più di cercare nelle scritture Ma voi cercate Così il protestantesimo Ha perso la causa del suo essere Loro sapevano cosa facevano E perché lo cambiavano Perché noi crediamo che Per trovare la vita eterna Tu debba ricercare le scritture Qui il protestantesimo viene demolito Perché credono solo loro Colpo mortale sui miracoli Giovanni 2,11 Gesù fece questo inizio dei miracoli In Cana di Galilea Aresvi Segni NIV Segni Non sono più miracoli Gesù invece fece dei miracoli Qualcosa che nessuno può fare Gesù era speciale Lui era diverso Non era un mago Nel Nuovo Testamento della King James La parola miracolo Singolare e plurale Appare 32 volte Quanta desolazione È fatta dai revisori In 23 casi La parola miracolo È scomparsa Negli altri 9 casi Anche se compare nel testo È indebolita Dalle note a margine La nostra Bibbia Autorizzata Discolpata Professor Wilkinson La dottrina della conversione È indebolita Matteo 18,2-3 King James E Gesù disse Se non vi convertite E non diventate come piccoli fanciulli RSV Se non cambiate Non diventate come i bambini NIV A meno che non cambiate E non diventate come i piccoli fanciulli Convertite È un termine molto chiaro e forte L'hanno rimosso Proseguiamo Nella revisione La conoscenza umana È esaltata sulla parola divina Giovanni 1,3-4 King James Senza di lui Nessuna delle cose fatte È stata fatta In lui era la vita La riveduta Lo mette nel margine RSV Senza di lui Niente è stato fatto Ciò che è stato fatto Era la vita in lui Questi sono piccoli cambiamenti Proseguiamo Nessuna creazione Bensì evoluzione Ebrei 11,3 King James Per fede intendiamo Che l'universo È stato formato Per mezzo Della parola di Dio RSV Nota a margine Per fede Comprendiamo Che le ere Sono state strutturate Dalla parola di Dio NIV Per fede Comprendiamo Che l'universo È stato formato Dal comando di Dio Magari Non vi sembra Un grosso problema Le rivedute Usano mondo La King James Universo Scopriamo cosa pensava Il professor Hort Quando suggeriva Questo cambiamento Lo dirà Lui stesso Vediamo Cosa dice Hort A tal proposito Vediamo Il pieno significato Delle parole usate Riguardo alla creazione In ebrei Capitolo 11 Verso 3 Per fede Comprendiamo Che i mondi Le ere L'universo È la parola usata Dalla riveduta Sotto l'aspetto Del tempo Sono stati Formati Dalla parola Di Dio L'intera sequenza Della vita E del tempo Che chiamiamo mondo È messa insieme Da Dio La sua unica parola creativa Include lo svolgimento Armonioso Su un unico piano Degli ultimi accadimenti Di tutto ciò Che era stato fatto Ciò che si relaziona a lui Uno alla volta Si relaziona A noi Il suo scritto È nauseante Continuiamo Un'evoluzione Appresa in successione Ordinata Lui credeva nell'evoluzione Quindi doveva cambiare La parola di Dio Leggermente Per cambiare Il significato originale Colossesi 1 15 e 16 King James Il quale è l'immagine Dell'invisibile Dio Il primo genito Di ogni creatura Poiché attraverso di lui Sono state create Tutte le cose È chiaro Nessun dubbio L'ha fatto Gesù RSV Lui è l'immagine Dell'invisibile Dio Saltiamo Poiché in lui Sono state create Tutte le cose Se fossimo tutti divini Sarebbe anche in noi Vero? Il nuovo linguaggio Dei revisori Ritarda l'applicazione Di questi testi Ad una creazione materiale Come nella King James Limitandoli come Applicazione spirituale Al cristianesimo Loro hanno cambiato Tutta la dottrina Della creazione King James Ebrei Capitolo 1 Verso 2 Mediante il quale Ha anche fatto I mondi RSV Attraverso di lui Ha anche fatto Le ere NIV Attraverso il quale Egli creò L'universo È possibile Spiritualizzare la creazione Cambiamenti Molto sottili Efesini 3 9 Mi irrita molto NIV È di manifestare A tutti L'amministrazione Di questo ministero Che è stato Nascosto Fin dalle ere Più remote In Dio Che creò Tutte le cose Vediamo cosa dice La King James O la nuova Deodati Che ha creato Tutte le cose Attraverso Gesù Cristo Manca Gesù Cristo È questo un sottile Attacco a Gesù Cristo Forse è un attacco Piuttosto chiaro A Gesù Cristo Cito la King James Ma lo spirito Non lo permise loro Rivedute Lo spirito di Gesù Nota a margine La 2 è come le rivedute Il dottor Milligan dice Lo spirito di Gesù In Atti 16.7 Implica che lo spirito santo Abbia così preso Il controllo di Gesù Da poterlo definire Lo spirito di Gesù È ciò che dicono gli esperti Questo è esattamente Il cambiamento Che volevano Ricordate che Hort Negava l'espiazione La dottrina Secondo cui Gesù Cristo Morì per noi Spargendo il suo sangue Colossesi 1.14 King James In cui abbiamo redenzione Per mezzo del suo sangue Persino il perdono Dei peccati Versione gesuita In cui abbiamo redenzione Il perdono dei peccati Manca Per mezzo del suo sangue Aresvi In cui abbiamo la redenzione Il perdono dei peccati Strano NIV In cui abbiamo la redenzione Il perdono dei peccati È la Bibbia gesuita Quindi la riveduta È la Bibbia gesuita Per mezzo del suo sangue Scomparso Cambiamento nella dottrina Persino Cristo La nostra Pasqua È sacrificato Per noi Lo avevamo già visto Lo ripeto Tutte le rivedute Tolgono Per noi Nessuna differenza Uno scrittore Esprime la sua indignazione Per il cambiamento Di questo passaggio Cito È il reverendo Burks Sono arrabbiato E non ho ragione Di esserlo Quando scopro Che quel grandioso passaggio Anche Cristo La nostra Pasqua È sacrificato Per noi La base Dell'intera dottrina Della redenzione È inutilmente cambiata In Anche la nostra Pasqua È stata sacrificata Persino Cristo E tali cambiamenti Sono ovunque Sono chiamati Miglioramenti di stile Dai loro autori E certamente Da nessun altro Mi piace il suo stile Lui ha coraggio Sono d'accordo Con lui Che dire Della dottrina Della seconda venuta Di Cristo E se potessero Cambiare anche quella Matteo 24 3 King James Quale sarà Il segno Della tua venuta E della fine del mondo RSV Margine Quale sarà Il segno Della tua presenza E della consumazione Dell'era Ok Quindi Gesù Non viene con le nuvole Ma arriva di nascosto Appare qui e là Ricordate la frase Se dicono sia qui o lì Non andate L'hanno tolto Filippesi 3 20 21 King James Il quale trasformerà Il nostro umile corpo Affinché sia reso conforme Al suo corpo glorioso Ora le rivedute Il quale formerà Nuovamente il corpo Della nostra umiliazione Affinché sia reso conforme Al corpo della sua gloria Qual è la differenza? Perché si impegnano A fare questi cambiamenti? Chiediamoglielo In base a questo E ad altri versetti Il cambiamento in noi Indicato dalla King James Avviene solo Alla seconda venuta Di Cristo È un cambiamento fisico Della realtà tangibile Ma il cambiamento Richiesto dai revisori Può verificarsi In qualsiasi momento Prima della sua venuta O essere continuo Man mano che ti abitui Al cristianesimo Potrebbe essere Un cambiamento Da vizi astratti A virtù astratte Loro hanno spiritualizzato La venuta di Cristo La Bibbia insegna Che Gesù viene nella gloria E tu sei cambiato all'istante Ma a loro non piace Preferiscono la reincarnazione Secondo a Tessalonicesi 2.2 È interessante King James Di non lasciarvi subito Sconvolgere nella mente Quasi che il giorno di Cristo Sia vicino Stia per accadere Revisione Sia ora presente Cioè potrebbe essere qui Ora NIV È già avvenuto Sottili cambiamenti Sulla seconda venuta Tito capitolo 2 Verso 13 King James Aspettando la beata speranza E la gloriosa apparizione Del grande Dio E nostro salvatore Gesù Cristo Aresvi Aspettando la nostra Beata speranza L'apparizione della gloria Del nostro grande Dio E salvatore Gesù Cristo Cambiando l'aggettivo Glorioso Col sostantivo Gloria I revisori Hanno tolto La seconda venuta Di Cristo Non è lui che viene Ma è qualcosa Che potrebbe accadere In qualsiasi momento King James Apocalisse capitolo 1 Verso 7 Egli viene con le nuvole E tutte le tribù della terra Faranno cordoglio con lui A causa sua Notate come cambiano per lui Ora le rivedute Egli viene con le nuvole E tutte le tribù della terra Faranno cordoglio su di lui Cosa significa? Hort diceva Cambieremo un po' qui E un po' là Westcott dice Westcott dice Tutte le tribù della terra Piangeranno su di lui In tristezza penitenziale Non come dice la King James Piangeranno a causa sua Per l'attesa di una terribile vendetta Quindi quando Gesù verrà Tutti diranno Ci dispiace per quello che abbiamo fatto E Gesù dirà Bene figli miei Venite Siete tutti salvi Mentre nella Bibbia King James Insegna che c'è stato un giudizio Col diluvio E ci sarà un giudizio finale È stato tolto Ora è spirituale Hai un'altra possibilità Brucialo O reincarnati O altro Il dottor Roberts Membro del comitato del Nuovo Testamento Favorevole al cambiamento Dice Atti 13 a 9 e 20 Nella King James È una traduzione impossibile Implicando che Gesù Verrà a giudicare il mondo A loro non piace Poi dice Per ragioni escatologiche È della massima importanza Che questo passaggio Venga presentato Attraverso la versione riveduta L'hanno cambiato Togliendo il giudizio Al ritorno di Gesù Grazie La maggior parte dei revisori Non credeva al ritorno personale di Gesù Come è scritto nella King James Qui c'è un intero cambiamento di dottrina È molto importante Se credi nell'avvento di Cristo E in ciò che accadrà Marco capitolo 7 verso 19 Perché non entra nel suo cuore Ma nel ventre Sono dei cambiamenti Vili e subdoli Perché non entra nel suo cuore Ma nel ventre E poi se ne va nella fogna Quando va in bagno Purificando tutti i cibi La King James Dice che non entra nel cuore Ma nello stomaco Ed esce E basta Aresvi Poiché non gli entra nel cuore Ma nel ventre E così passa Così dichiarò puri Tutti i cibi Scusate Gesù non dichiara i cibi puri La NIV è ancora peggio Ragazzi Che modifica Perché non gli entra nel cuore Ma nel suo stomaco E poi fuori dal suo corpo Dicendo questo Gesù dichiarò puri Tutti i cibi Ma non lo dice da nessuna parte Quindi c'è una nuova dottrina Interessante Chi ama la NIV Avrà problemi Per dimostrare alcuni fatti Luca 23, 44 e 45 King James Era circa l'ora sesta E si fece buio su tutto il paese Fino all'ora nona Il sole si oscurò Era un miracolo Che mostrava che Gesù Era il figlio di Dio RSV La luce del sole viene meno Cito la traduzione Moffat A causa di un'eclissi di sole Da dove lo prendono? Nessun miracolo Nelle rivedute Prima Corinzi 7, 5 Le rivedute tralasciano Che a volte si deve digiunare O che il digiuno sia utile Giovanni 9, 4 Hanno cambiato una piccola parola King James Version Bisogna che io compia le opere Di colui che mi ha mandato Mentre è giorno La notte viene In cui nessuno può operare Ora le rivedute Noi dobbiamo compiere Le opere di colui che mi ha mandato Qual è la differenza? Nella King James Gesù è l'unico Che può compiere Quest'opera Mentre nelle rivedute Possiamo farlo tutti Nei prossimi video vi mostrerò I predicatori moderni Che dal pulpito Dicono Che avrebbero potuto salvarvi Proprio come fece Gesù Vi mostrerò predicatori di alto Rango Che dicono questa cosa Per dimostrarlo potete usare I testi delle rivedute Seconda Timoteo 4, 1 Ti scongiuro dunque davanti a Dio E al Signore Gesù Cristo Che ha da giudicare i vivi e i morti Nella sua apparizione E nel suo regno RSV E attraverso la sua apparizione Hanno cambiato la dottrina Del ritorno di Gesù Prima Corinzi 11, 29 Hanno inserito la transustanziazione L'ostia cattolica Poiché chi ne mangia e beve indegnamente Mangia e beve un giudizio contro se stesso Non discernendo il corpo del Signore RSV Chiunque mangia e beve Senza discernere il corpo Mangia e beve il giudizio su se stesso Manca indegnamente E Signore E NIV Chiunque mangia e beve Senza riconoscere il corpo del Signore Mangia e beve il giudizio su se stesso Wow Questo è cattolicesimo E l'ostia Qui c'è la transustanziazione L'omissione di indegno E Signore Condanne i protestanti Che non credono Che il pane sia trasformato Nel corpo di Cristo La NIV è una Bibbia dei Gesuiti Senza dubbio Io la leggevo E l'ho a casa Ma ora la uso Per mostrare i cambiamenti Non buttatela Conservatela Loro restaurano il confessionale Il cattolicesimo insegna il confessionale King James Confessate i vostri falli l'uno all'altro RSV Confessate i peccati gli uni gli altri NIV Quindi confessate reciprocamente i vostri peccati Dublin Review Un giornale cattolico Luglio 1881 Ora gli apostoli hanno il potere di perdonare i peccati E non semplicemente di rimetterli Confessate i tuoi peccati È la nuova lettura di Giacomo capitolo 5 verso 16 Quindi era intenzionale? Sì o no? È stato intenzionale Molto intenzionale Inserendo il confessionale nella NIV Ebrei 1021 King James E avendo un sommo sacerdote sopra la casa di Dio Sommo sacerdote RSV un grande sacerdote NIV un grande sacerdote Bene Ciò implica che possano esserci altri sacerdoti Se c'è un grande sacerdote Allora possono esserci dei sacerdoti non così grandi Quindi ora possiamo avere i preti Molto importante Questa è davvero grossa Prendete tutti nota Questo testo è molto importante per voi Ed è incredibilmente importante per me In Atti capitolo 15 verso 23 È cambiato tutto il governo della Chiesa King James o la nuova Diodati Con una lettera scritta di loro mano che diceva Gli apostoli, gli anziani e i fratelli Salutano i fratelli Chi manda i saluti eccetera Gli apostoli, gli anziani e i fratelli Inviano la prima lettera apostolica alle chiese Aresvi Con la seguente lettera I fratelli, sia apostoli che anziani Ai fratelli che sono dei gentili NIV inviano la seguente lettera Gli apostoli e gli anziani Vostri fratelli Ai credenti gentili Cosa accade? Questo è molto importante Hanno cambiato solo le virgole È un cambiamento molto sottile Ma è un cambiamento molto potente Vi spiego Nella King James o nella nuova Diodati Ci sono tre gruppi che ufficiano nella Chiesa Apostoli Anziani e fratelli Pietro dice Siete tutti sacerdoti Questo è ciò che dice Pietro Nelle rivedute ci sono due gruppi Gli apostoli e gli anziani E poi i fratelli Cosa pensano a riguardo? Cito Questo passaggio è usato come fondamento Per favorire un clero Che opera separatamente dai fratelli laici È molto diverso Se questa autorevole lettera Del primo concilio della Chiesa cristiana Proviene solo dagli apostoli e dagli anziani Anziché dagli apostoli Anziani e fratelli Per questo cambiamento I revisori tolgono due parole greche L'hanno cambiato omettendo due parole greche Quindi abbiamo gli apostoli e gli anziani E poi i fratelli Alcuni dicono Non devi predicare Non sei un teologo L'avete sentito? Perché predichi la parola di Dio? Non sei un teologo Io l'ho sentito molte volte Io non sono un teologo Io sono un fratello E lo siete anche tutti voi Fratelli Voi avete il diritto di predicare la parola di Dio Perché siete sacerdoti dell'Altissimo Ma cambiandolo Non puoi predicare perché non sei un teologo E insegnamento gesuita Viene dall'inferno Non è biblico E tutti sono sacerdoti di Dio Quindi ignorali quando dicono che non sei un teologo Tu hai il diritto di leggere la parola di Dio proprio come loro Questi cambiamenti mi irritano Cito Il nome di sacerdote e sacerdozio Come diceva Sant'Agostino Lui ritorna ai padri della Chiesa È un ordine distinto dai laici e dal popolo volgare Ordinato per sacrificare Cristo Non violentemente A suo Padre Celeste per noi Per predicare e amministrare i sacramenti E per essere i pastori del popolo Loro tolgono quelle parole nelle loro traduzioni Capite? Agostino dice Noi siamo un santo sacerdozio E voi altri siete spazzatura Noi ti diremo cosa credere Ma la Bibbia non dice nulla del genere Quella prima lettera è molto importante Ebrei 9,27 King James È come stabilito che gli uomini muoiono una sola volta E dopo c'è il giudizio È abbastanza chiaro RSV È come stabilito che gli uomini muoiono una sola volta E poi ciò viene il giudizio NIV Morire una sola volta E poi affrontare il giudizio Ora vediamo cosa significa questo cambiamento per i revisori Canon Farrar dice che la modifica era intenzionale Lui era membro del Club degli Apostoli Anche Hort apparteneva a quella società segreta Farrar dice C'è la certezza positiva che la parola non significhi giudizio Come è comunemente intesa Togliendo l'articolo che i traduttori della King James Hanno inserito erroneamente Le revisioni aiutano a rimuovere silenziosamente questi errori Come hanno già fatto in tanti posti Beh, credo che lui sia un altro tipo di apostolo Cito Alla nostra morte segue un giudizio Lo scrittore sacro dice che il giudizio finale Forse non arriverà nei secoli a venire Poiché con i revisori che tolgono l'articolo Che si trovava nella King James Abbiamo la dottrina dell'esistenza di uno Stato intermedio Togliendo il piccolo articolo Si può dimostrare biblicamente il purgatorio cattolico Ma non potete dimostrare che morirete una sola volta E poi il giudizio King James, Luca 1, 72 Per attuare la misericordia promessa ai nostri padri Ora le rivedute Per mostrare misericordia ai nostri padri Interessante Ora puoi mostrare misericordia ai nostri padri Così si possono pregare i morti Ora puoi farlo Cito Si sospettava che questo testo Se tradotto letteralmente Intendeva che i padri già morti Avessero bisogno di misericordia E che il Signore Dio di Israele Fosse pronto a darla loro Ma dove erano quei padri? Non in cielo dove c'è solo gioia E non all'inferno Dove la misericordia non potrebbe raggiungerli Quindi loro dovevano essere in un luogo intermedio Nel limbo o nel purgatorio Perché certamente non erano Né in cielo né all'inferno Ora nella Bibbia c'è il purgatorio Lo sapevate? Con la traduzione moderna Puoi dimostrare il purgatorio Tremendo Il Vescovo dice che i cambiamenti dei Revisori Confermano il Nuovo Testamento Gesuita del 1582 E condanna la King James di perversione Bibbia Gesuita Prima Pietro 4.6 Per questo motivo l'Evangelo fu predicato anche a coloro che sono morti RSV Per questo infatti il Vangelo fu predicato anche ai morti NIV Ancora peggio Per questo il Vangelo è stato annunziato anche a coloro che ora sono morti Cosa significa? Nella King James il Vangelo è stato predicato a coloro che sono morti In passato il Vangelo era stato predicato a coloro che ora sono morti Ma nelle rivedute è ancora predicato ai morti Atti 24.15 Che vi sarà una resurrezione dai morti RSV ci sarà una resurrezione sia dei giusti che degli ingiusti Nella King James quando sei morto sei morto Poi risorgerai Ma per le revisioni ora puoi essere un fantasma Vediamo se troviamo la teologia dei fantasmi Giobbe 19.26 N.I.S.V Anche dopo che la mia carne sarà fuggita Anche senza la mia carne vedrò Dio Sei uno spettro che vede Dio Casper il fantasma amico King James è anche se il mio corpo verrà distrutto Nella mia carne vedrò Dio È una grande differenza In una c'è la resurrezione Nell'altra no Giobbe 26.5 Sotto le acque si formano cose morte E così pure i loro abitanti La revisione I defunti Le ombre Nota a margine Tremano sotto le acque Sotto i loro abitanti Interessante Nella King James si formano cose morte Sotto le acque Sotto i loro abitanti Le cose morte sono laggiù Nella riveduta I defunti Tremano sotto le acque C'è una specie di inferno O di purgatorio La N.I.V. è più diretta I morti sono in profonda angoscia Quelli sotto le acque E tutto ciò che vive in esse Wow Ora c'è qualcuno Che brucia in purgatorio La N.I.V. insegna Dottrine Totalmente Non bibliche King James Il Signore sa liberare I.P. dalla prova E riservare gli ingiusti Per essere puniti Nel giorno del giudizio Sentiamo la N.I.V. Ingiustamente Per il giorno del giudizio Pur continuando La loro punizione Cosa abbiamo qui? Per me queste Bibbie Sono disgustose Disgustose Insegnano una dottrina Totalmente diversa Le rivedute sostengono L'insegnamento cattolico Sui morti coscienti King James E l'adoreranno Tutti gli abitanti della terra Che adorano la bestia I cui nomi Non sono scritti Nel libro della vita dell'agnello Che è stato ucciso Fin dalla fondazione del mondo Aresvi E tutti gli abitanti Della terra L'adoreranno Tutti coloro I cui nomi Non sono stati scritti Prima della fondazione Del mondo Qui I nomi della gente Sono stati scritti Prima della fondazione Del mondo King James Prima Corinzi 15 Versi 3 e 4 E risuscitò Il terzo giorno La riveduta dice Che è stato risuscitato Il terzo giorno Qual è la differenza? Nella King James Gesù ha in sé Il potere Di risorgere dai morti Mentre nella riveduta È inferiore a Dio Prima Corinzi Capitolo 11 Verso 24 Sulla Messa Cattolica King James O la nuova Diodati Lo spezzò e disse Prendete Mangiate Questo è il mio corpo Che è spezzato per voi RSV Lo spezzò e disse Questo è il mio corpo Che è per voi Fate questo E memoria di me Ora c'è l'ostia Abbiamo un corpo letterale Questa è dottrina cattolica L'altra non lo è Cito Cristo è sempre con noi Non di persona Ma con il suo spirito Dottrina riveduta Dell'incarnazione La messa quindi Rende superflua E distrugge la verità Secondo cui Gesù verrà la seconda volta Senza peccato È per salvare Il cardinale Wiseman È felice Perché la revisione Rivendica la Bibbia Cattolica Considerando il disprezzo Dei riformatori Sulla vulgata Ricorrendo al greco Come unico modello accurato Siamo felici Del silenzioso trionfo Che la verità Ha finalmente ottenuto Su questo errore Perché i principali scrittori Che hanno vendicato La vulgata Dandole la massima preminenza Sono protestanti I revisori Non erano protestanti Ma erano dei gesuiti Travestiti da protestanti Come abbiamo visto Nel video precedente Il reverendo Thomas Dice cose molto simili Esaminando la riveduta Del Nuovo Testamento Mi ha convinto Che il comitato Ha lavorato Con grande sincerità E diligenza Producendo una traduzione Molto più corretta Di quanto dicono I protestanti Per la rivista cattolica La versione riveduta È la morte Del protestantesimo Il protestantesimo Se ne andrà Cito La distruzione Del loro tempio La gloria di Dio Che abbandona Il Santissimo Accadrà lo stesso Con la Bibbia inglese Il tempio Del protestantesimo Verrà distrutta Sparirà Cito I revisori Hanno avuto Una meravigliosa opportunità Hanno fatto Qualche cambiamento Ma l'hanno rovinata L'hanno distrutta Domanda È Gesù bugiardo? King James Giovanni 7 Verso 8 Salite voi A questa festa Io non vi salgo ancora Perché il mio tempo Non è ancora compiuto RSV Andate voi Alla festa Io non salirò A questa festa Perché la mia ora Non è ancora giunta Riveduta Gesù dice Non vado Ma poi ci va King James Gesù dice Non vado Ancora Poi ci va In una Gesù dice la verità Nell'altra Gesù è un bugiardo Scegliete voi Il danno più grande È togliere La divinità Di Cristo Per l'Islam Cristo è solo Un uomo Non ne parlerò Ora Ma in un altro video Matteo capitolo 6 Verso 22 RSV Dio non voglia Signore King James Signore Dio te ne liberi Tito 2 Dall'1 al 3 Riveduta Aspettando La nostra beata speranza L'apparizione Della gloria Del nostro Grande Dio E Salvatore Gesù Cristo ASV Aspettando La beata speranza E l'apparizione Della gloria Del grande Dio E nostro Salvatore Gesù Cristo King James Aspettando La beata speranza E la gloriosa Apparizione Del grande Dio E nostro Salvatore Gesù Cristo Nella King James Gesù è Dio Ma nelle rivedute Ha solo la gloria Che Dio gli dà Quindi è subordinato A Dio Isaia 7 14 Sentite questo cambiamento RSV Il Signore vi darà un segno Una ragazza concepirà E darà alla luce un figlio Chiamandolo Emanuele Spiegatemi come una ragazza Che concepisce un figlio Possa essere un segno Chi potrebbe qualificarsi? Tutti Quindi non è un segno È patetico King James Il Signore vi darà un segno La Vergine concepirà E darà alla luce un figlio E gli porrà nome Emanuele Questo è un segno È qualcosa di speciale Un rabbino tra i revisori Favorevole a questo cambiamento Scrive Sono felice di sapere Che almeno questo grande errore Di traduzione È stato finalmente corretto E che alcuni elementi Del mondo cristiano Non sostengono più Ufficialmente Che in Isaia 7 14 Gesù sarebbe nato Dalla Vergine Maria Hanno rimosso La sua nascita Miracolosa RSV Il tuo trono divino Dura per sempre King James Il tuo trono O Dio Dura in eterno Il nome Dio È ridotto all'aggettivo divino Ma Ebrei 1.8 Cita il salmo Applicandolo al figlio Quindi cambiano il salmo Altrimenti Gesù potrebbe essere Dio Capite? Ebrei capitolo 1.8 King James Del figlio invece dice Il tuo trono O Dio È per i secoli Dei secoli RSV Del figlio invece dice Il tuo trono O Dio È per i secoli Dei secoli È uguale a King James Dove l'hanno cambiato? Nei salmi Affinché non si applichi A Gesù Questo è molto serio Proverbi capitolo 8.22 RSV Il Signore mi ha creato all'inizio della sua opera Ora Gesù è una creatura NIV Il Signore mi ha generato come prima delle sue opere Anche qui è una creatura King James L'Eterno mi possedette al principio Al principio era parte di Dio Nella King James è Dio Ma qui è una creatura Daniele 3.25 Rivedute Un figlio degli dèi Un figlio degli dèi Un figlio degli dèi King James Il figlio di Dio Grande differenza Mikea 5.2 RSV Da te uscirà per me colui che sarà dominatore in Israele Le cui origini sono dai tempi antichi King James Le cui uscite sono dai tempi antichi Dai giorni eterni Qui ha un'origine È creato Ma là non è creato Matteo 1.25 Gesù non è più il figlio primogenito È solo un figlio King James Il figlio primogenito Quindi Maria era vergine Le rivedute tolgono la nascita dalla vergine Anche qui Ma c'è di peggio A margine dicono che Giuseppe È il padre di Gesù King James Giacobbe generò Giuseppe Il marito di Maria Dalla quale nacque Gesù Che è chiamato Cristo Qui è nato miracolosamente Lì ha un padre terreno King James Giuseppe e sua madre Si meravigliarono delle cose Che si dicevano di lui Duei La Gesuita Suo padre e sua madre Erano meravigliati Gesù non ha più una nascita miracolosa Stessa cosa nella NIV Con padre e madre Eccetera Matteo capitolo 13 Verso 51 Gesù chiede Avete capito tutte queste cose? Essi risposero Sì RSV Stessa cosa King James Sì signore Quindi lo riconoscono come Dio Curios Questo è stato rimosso Centinaia di volte Nelle rivedute Dove si dice Che Gesù È Signore È Sparito Ora Matteo 19 Versi 16 e 17 RSV Maestro Che devo fare di buono Per avere la vita eterna? Ed egli disse Perché mi interroghi Intorno a ciò che è buono Uno solo È il buono King James Version Maestro buono Che devo fare di buono Per avere la vita eterna? Ed egli disse Perché mi chiami buono? Vedete la differenza? Nessuno è buono Se non uno solo Cioè Dio Questo testo è affascinante Che differenza c'è? Nella riveduta La bontà non si applica alla persona Nella King James Lui chiama Gesù Maestro buono Gesù riconosce qualcosa in lui E gli dice Perché mi chiami buono? Nessuno è buono Se non uno solo Cioè Dio Gesù dice Tu hai riconosciuto qualcosa Cioè che io sono Dio Ma è sparito dalle altre Bibbie È stato cambiato Questo giovane Non riconosce Gesù come Dio Lo approfondiremo Matteo capitolo 27 Verso 35 Tutte le nuove traduzioni Dove dice Affinché si adempisse Ciò che fu detto dal profeta Hanno diviso Tra loro le mie vesti E sulla mia tunica Hanno tirato a sorte Le traduzioni moderne Lo hanno rimosso Come mai accade Nelle traduzioni moderne? Perché dimostra Che Gesù È il compimento Della profezia Così l'hanno tolto Affinché non si adempia La profezia Matteo capitolo 2 Verso 15 King James Ho chiamato il mio figlio Fuori dall'Egitto Ora Osea Non è un adempimento Della profezia Perché queste Sono le esatte parole Usate in Osea Applicate nel Nuovo Testamento Ma cambiandole La profezia di Osea Non è più adempiuta Marco 15 3 E i capi dei sacerdoti Lo accusavano Di molte cose Ma egli Non rispondeva nulla Perché manca Nelle Bibbie rivedute? Perché è l'adempimento Della profezia Tolto Gesù Non adempie La profezia Non è migliore Di noi Marco 15 28 Così si adempì La scrittura Che dice Egli è stato Anoverato Fra i malfattori Sparito Nella riveduta Prima Giovanni 4 Verso 3 E ogni spirito Che non riconosce Che Gesù Cristo È venuto nella carne Questa è una dottrina centrale Non è da Dio E questo è lo spirito Dell'Anticristo RSV E ogni spirito Che non riconosce Gesù Non è da Dio Ups NIV E ogni spirito Che non riconosce Gesù Non è da Dio Se lo tralasciano Presumo Che le rivedute Siano state scritte Dallo spirito Dell'Anticristo Giusto? Deve essere così Perché non c'è Quindi lo negano Nella RSV È scomparsa L'apparizione Di Gesù Dopo la resurrezione Matteo Capitolo 6 Verso 13 King James E non esporci Alla tentazione Ma liberaci Dal maligno Perché tuo È il regno È la potenza È la gloria In eterno Amen Sparito Perché lo tolgono Dalla Dua RSV E NIV Perché tuo È il regno È la potenza È la gloria Sparito Perché Gesù Non deve più Essere esaltato Luca Capitolo 11 Verso 2 RSV Padre Si è santificato Il tuo nome Venga il tuo regno Interessante NIV Padre Si è santificato Il tuo nome King James Quando pregate Dite Padre nostro Che sei nei cieli Si è santificato Il tuo nome Venga il tuo regno Si è fatta la tua volontà Sulla terra Come nel cielo Perché rimuovere Queste parole Nelle Bibbie rivedute Nelle Bibbie rivedute Tu puoi pregare Chi Puoi avere il Papa Come padre Ma nella King James O la nuova Deodati Non puoi Perché Padre nostro Che sei nei cieli Non è il Papa E li hanno tolti Luca 11 Dal 2 al 4 King James Quando pregate Dite Eccetera Le Bibbie moderne Hanno tolto Quei testi Apparizione dopo La resurrezione Luca Capitolo 24 Verso 40 Manca nella RSV King James E detto questo Mostrò loro Le mani e i piedi L'hanno tolto Da Marco E da Luca E la sua Miracolosa ascensione King James Fu portato su Nel cielo Ed essi Dopo averlo adorato L'hanno tolto N.A.S.B. Mentre Libbie ne diceva Si separò da loro Ed essi tornarono A Gerusalemme Con grande gioia Giovanni 3 13 King James Nessuno è salito in cielo Se non colui Che è disceso dal cielo Cioè il figlio dell'uomo Che è nel cielo Gesù è Dio Ed ora è in cielo Ma lo hanno tolto Ora questo Giovanni 6 33 RSV Poiché il pane di Dio È quello che scende dal cielo King James Perché il pane di Dio È colui Che discende dal cielo Lì c'è il pane E lì c'è una persona Grande differenza Nelle traduzioni moderne Gesù viene rimosso RSV In verità In verità vi dico Chi crede Alla vita eterna A cosa? Che le rane sono dei? Ci sono religioni Che lo credono Oggi esistono in Giappone Chi crede A cosa? Madre Teresa diceva Qualunque cosa tu creda Che Dio sia Va bene No, 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 no King James Chi crede in me A vita eterna Sparite due piccole parole Che fanno una grande differenza Giovanni 16,16 RSV Tra poco non mi vedrete più E tra un altro poco mi vedrete Questo testo fa ridere Perché Gesù gioca a nascondino Sbirciava dietro un albero Dicendo Ora mi vedi Ora no Ora mi vedi Ora no È stupido Dio non mette un testo così stupido Nella Bibbia NIV È altrettanto stupido Un po' non mi vedrete E dopo un po' mi vedrete Starà dietro l'albero King James Fra poco non mi vedrete più E un altro poco E mi vedrete Perché me ne vado Al Padre Questo versetto Ha senso Quale pensi che Dio abbia detto? Ditemelo Dai Ovviamente Nella King James Questi altri Sono patetici A volte mi arrabbio Devo calmarmi Giovanni 16-23 RSV Qualsiasi cosa domanderete al Padre Egli ve la darà nel mio nome King James Tutto ciò che domanderete al Padre Nel mio nome Egli ve lo darà C'è un'enorme differenza Tra questi testi Lì è implicito Tutto il carattere di Dio E la sua verità Nell'altro va bene tutto Atti 2-30 RSV Egli dunque Essendo profeta E sapendo che Dio Gli aveva promesso Congiuramento Che sul suo trono Avrebbe fatto sedere Uno dei suoi discendenti King James Gli aveva Congiuramento Promesso Che dal frutto Dei suoi lombi Secondo la carne Avrebbe suscitato Il Cristo Per farlo sedere Sul suo trono Perché hanno tolto Queste cose? Perché negano La dottrina Della venuta Di Dio Nella carne E chi lo nega È Anticristo Nella RSV C'è lo spirito Dell'Anticristo Atti 8 Versi 36 E 37 Questo è triste È sparita L'espiazione Se tu credi Con tutto il cuore Lo puoi Io credo Che Gesù Cristo È il figlio di Dio Il versetto 37 È sparito Non ti salva Gesù Ti salvi da solo Atti 9 29 Egli parlava E discuteva Con gli elenisti Ma essi cercavano Di ucciderlo Interessante King James Egli parlava Coraggiosamente Nel nome del Signore Gesù E discuteva Con i greci Ma essi Cercavano Di ucciderlo È Gesù Che fa la differenza Nella Bibbia Ecumenica Si dibatte Ma qui Il dibattito Riguarda Gesù Cristo Lui fa la differenza Atti 22 16 RSV È NIV Battezzato E lavato Dei tuoi peccati Invocando Il suo nome King James Lavato Dai tuoi peccati Invocando Il nome Del Signore Anche qui L'hanno rimosso King James Nelle sante scritture Riguarda Suo figlio Gesù Cristo Nostro Signore Nella RSV Potrebbe essere Il figlio Lucifero Ma è il figlio Gesù Cristo Nostro Signore Grande differenza Romani 9 5 Riveduta Secondo la carne È il Cristo Benedetto Il Dio Sopra tutte le cose King James Dai quali proviene Secondo la carne Il Cristo Che è sopra tutte le cose Dio benedetto Nella King James Gesù è più in alto Di tutti Romani 14 10 RSV Poiché tutti Dobbiamo comparire Davanti al tribunale Di Dio King James Davanti al tribunale Di Cristo Ciò rende Cristo Dio Ma non solo Esalta Gesù Come giudice Nelle revisioni Hanno tolto Questo privilegio Di Gesù Rendendolo generico Prima Corinzi 15 47 RSV Il primo uomo Tratto dalla terra E' terrestre Il secondo uomo E' dal cielo King James Il primo uomo Tratto dalla terra E' terrestre Il secondo uomo Che è il Signore E' dal cielo Grande differenza Prima Timoteo 3.16 RSV È il mistero Della nostra religione Colui è stato manifestato Nella carne Di chi parla? Ciao Ti andrebbe di guardarmi? Io mi manifesto Nella carne Sono carne e ossa Nessun problema King James Grande è il mistero Della pietà Dio è stato manifestato Nella carne E' diverso Vedete come riducono Gesù Togliendolo dai Vangeli? E' un vero peccato Questo è il peggiore Nel mondo c'è molto dibattito Sulla Trinità E dicono che la Trinità Non è dottrina della Bibbia Deve essere rimossa E hanno ragione Perché non puoi dimostrare La Trinità Nelle rivedute E dicono che sia Dottrina cattolica No Nel cerchio ristretto esoterico La dottrina cattolica è Padre Madre Figlio Ma per il popolino È Padre Figlio Spirito Santo Ma la dottrina esoterica Del cattolicesimo È Padre Madre Figlio Lo dimostrerò In un altro video Leggiamo Prima Giovanni 5 7 N A e V Tre sono quelli Che testimoniano Non dicono nulla King James O la Nuova Deodati Poiché Tre sono quelli Che rendono testimonianza Nel cielo Il Padre La Parola E lo Spirito Santo E questi tre Sono uno Ciò rende Gesù Dio Fa parte della triplice divinità Questo testo mostra Che ci sono tre poteri In cielo Padre Figlio E Spirito Santo Tutti e tre E sono pienamente Dio L'hanno tolto Le traduzioni moderne Lo tolgono King James E lo Spirito di Dio Riposa su di voi Da parte loro Egli è bestemmiato Ma da parte vostra Egli è glorificato L'hanno tolto La glorificazione di Gesù È rimossa Da Primo Pietro 4.14 In Apocalisse 1.11 Hanno rimosso Io sono l'Alfa e l'Omega Il primo e l'ultimo Rimossa la sua eterna divinità Apocalisse 5.14 King James E i 24 anziani Si prostrarono E adorarono colui Che vive nei secoli Dei secoli Le rivedute Tolgono l'eternità divina Di Gesù Bene King James Matteo 4.4 Sta scritto L'uomo non vive di solo pane Ma di ogni parola Che procede Dalla bocca di Dio Come sai Cosa dice Dio Se lo confondono Così tanto E usando la logica Secondo voi Qual è il testo Più corretto? Quello della King James O Nuova Dio Dati O quello delle revisioni Cosa pensate? Può essere solo la King James Perché le Bibbie moderne Sono veramente patetiche E' l'unica parola Per definirle E' una bella parola Muove la lingua Non hanno senso Ora Questo è il monastero Di Santa Caterina Monte Sinai Sul Monte Sinai Dio diede la legge A Mosè Cioè Tutta la Bibbia Il Pentateuco I primi Cinque libri Li ha ricevuti Direttamente Da Dio E li ha trascritti In un libro Chiamato Legge di Mosè Questo cammello Non c'entra niente E' lì solo perché E' carino Si dice che le tavole di pietra Furono scolpite Proprio da questa roccia E' solo tradizione Saliamo al Monte Sinai Si dice che Dio Abbia parlato qui Se è il posto giusto Non ne siamo sicuri Questo non è il vero Monte Sinai Cercate i video di Ron Wyatt Dio parlò con grande maestà E diede la legge In cima c'è una chiesetta copta E' stata dura salire lassù Scendiamo e troviamo qualcos'altro La conca di Elia Cartello Monte Sinai La conca di Elia La tradizione dice che qui Arrivò Elia Quando scappò da Jezebel Ora riflettiamo Al Sinai Dio manda le sue parole E' un grande pensiero Elia corse in questo luogo Per nascondersi da Jezebel Perché è scappato da lei? Cosa fece per scappare da Jezebel? Ve lo dico Si confrontò con i sacerdoti Di Baal Un potente confronto Tra verità ed errore E dopo il confronto Dio lo riportò fino al Sinai Da dove proviene la parola Questo è ciò che ha reso possibile Il confronto Cosa c'è oggi sul Monte Carmelo? Un enorme tempio Bahá'í Che predica che tutte le religioni Sono uguali Non c'è differenza Sembra che negli ultimi giorni Sia entrata una nuova dottrina Le religioni sono uguali Ma Elia predicava che c'è differenza E c'è un giudizio E ritorna alla legge Al Sinai E oggi sul Monte Carmelo Il tempio Bahá'í Dice che tutte le religioni Sono uguali Inoltre Dal Sinai La parola di Dio E' andata nel mondo Dal Sinai Oggi avanza qualcos'altro C'è un monastero di Santa Caterina Dove fu trovato Il testo sinaitico E' il testo su cui si basano Tutte le corruzioni Che abbiamo appena visto Dal Sinai Avanza una parola Nuova nel mondo Una parola corrotta Il Carmelo è corrotto Nessuna differenza Dio non dice di separarvi E di adorare il Dio vivente Mentre l'altro messaggio E' ecumenico Siamo tutti insieme Seduti in una pentola Il diavolo odia il Carmelo Odia la legge di Dio E la contrasta Ha preso ciò che usava Dio Facendo la sua Lui E' molto subdolo Vero? Prima re 18-21 Fino a quando Tentenerete fra le due opinioni Se l'Eterno è Dio Seguitelo Ma se invece lo è Bal Seguite Lui Il popolo non rispose parola Avrebbero preferito adorarli entrambi Volevano pace e tranquillità Oggi è lo stesso Vogliono adorare entrambi Ora vorrei invitare tre persone Tre volontari Uno con la NIV Uno con la Revised Standard Version E uno con la King James Venite Faremo un piccolo esperimento Solo per divertimento Fantastico Ora cerchiamo alcuni versetti Matteo 17 verso 21 Leggilo dalla King James Ora questa specie di demoni Non esce se non mediante la preghiera E il digiuno Non esce senza preghiera E il digiuno Cosa dice la NIV? Voglio solo il versetto 21 Per favore Non c'è il versetto 21 Oh Non c'è il 21 Cosa dice la RSV? Non c'è neppure qui Oh neppure nella RSV Ora Matteo 18-11 King James Poiché il figlio dell'uomo è venuto per salvare ciò che era perduto E' un verso potente Quanti sermoni sono stati predicati su quella parola? Cosa dice la NIV? Verso 10 e verso 12 Manca all'undici Non c'è il versetto Oh ok Cosa dice la RSV? Lo stesso Non c'è E' triste Leggiamo Matteo 23-14 Guai a voi Guai a voi scrive i farisei ipocriti Perché divorate le case delle vedove E per pretesto fate lunghe preghiere Per questo subirete una dannazione più grande Il clero esaltato riceve un pugno Cosa dicono le rivedute? Verso 13 e 15 Ma non c'è il 14 Sicuramente erano così esaltati che Gesù ha sbagliato e loro hanno tolto quel versetto Cosa dice la tua? Niente Oh non ce l'ha Vediamo Marco 7-16 King James Che ha occhi da udire oda Versetti 14 e 15 Manca il versetto 16 Anche qui E' importante ascoltare la parola di Dio L'hanno tolto Ora Marco 9-44 9-44 Dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne C'è il versetto 43 e il 45 Manca il versetto 44 Nessun versetto 44 E' un testo interessante, ne parleremo in seguito E' il versetto 46 King James Marco 9-46 Dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne Manca di nuovo C'è il versetto 45 e il 47 Manca il 46 Marco 11-26 Marco 11-26 Ma se voi non perdonate, neanche il Padre vostro che è nei cieli perdonerà i vostri peccati C'è il versetto 25 e il 27 Manca il 26 Potremmo andare per molto tempo Mancano tutti quei versetti Ora vediamo alcuni versetti che ci sono Atti 9, versi 5 e 6 Atti 9, versi 5 e 6 King James Chi sei, Signore? E il Signore disse Io sono Gesù che tu perseguiti Ti è duro recalcitrare contro i pungoli Atti 9, versi 5 e 6 NIV Chi sei, Signore? Saulo chiese Sono Gesù che tu hai perseguitato Rispose Ora alzati ed entra in città E ti verrà detto ciò che devi fare Ora la RSV Chi sei, Signore? E lui disse Io sono Gesù che tu perseguiti Ma alzati ed entra in città E ti verrà detto cosa devi fare Cosa manca? La parte dove c'è opposizione E lotta contro due scelte Quindi nella Bibbia ecumenica Non vuoi divisione Ma unità Quindi tutti i testi sulla divisione Dove devi decidere Spariscono Romani 8, 1 Romani 8, 1 King James Non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù I quali non camminano secondo la carne Ma secondo lo spirito Non c'è più alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù Dove è l'ultima parte? Non c'è Quindi se hai Gesù Sei salvato Nessun cambiamento nella tua vita E la RSV? Ora non c'è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù Nessun cambiamento Che non camminano secondo la carne Implica un cambiamento? Sì o no? Assolutamente Sparito Perché vogliono avere una grande unità Questi sono testi che non abbiamo affrontato E potremmo continuare per molto tempo Prima Timoteo 3, 16 Prima Timoteo 3, 16 King James E' senza alcun dubbio Grande il mistero della pietà Dio è stato manifestato in carne E' stato giustificato nello spirito E' apparso agli angeli E' stato predicato tra i gentili E' stato creduto nel mondo E' stato elevato in gloria Prima Timoteo 3, 16 Non c'è Eccolo lì Senza dubbio Grande è il mistero della pietà Colui che è stato manifestato in carne E' stato giustificato nello spirito E' apparso agli angeli E' stato predicato fra le nazioni E' stato creduto nel mondo E' stato elevato in gloria E tu hai lo stesso Scrive colui Vero? Grande davvero Lo confessiamo E' il mistero della nostra religione Colui è stato manifestato nella carne Confermato nello spirito Visto dagli angeli Predicato tra le nazioni Creduto nel mondo Assunto nella gloria Oggi avete visto Quale sia il nocciolo della questione King James O la nuova Deodati Dice Che Dio si è manifestato nella carne Gesù Cristo è Dio Gesù Cristo è l'unico che può salvarti Gesù Cristo è l'unico che ti può salvare Perché è l'unico che ti ha creato Quindi è l'unico che può salvarti E' l'unico che può aprire i sigilli della pergamena Nessun altro Nessun essere creato Nessun angelo Solo Gesù Cristo E se vuoi dimostrare le dottrine della Bibbia E' meglio avere una King James O una nuova Deodati O qualsiasi altra Bibbia esistente Prima del 1900 C'è la Bibbia russa Quella serba La vecchia Bibbia croata La Bibbia di Lutero del 1912 Perché quella del 1984 Ha un cambiamento enorme Puoi prendere qualsiasi vecchia Bibbia del mondo Tranne la Duei E la Vulgata E troverai tutte le dottrine necessarie Per comprendere la salvezza in Cristo Gesù Sospettate di ogni nuova traduzione In Africans, nel mio paese La vecchia Bibbia Africans E' esattamente uguale alla King James Invece la nuova è come la riveduta In Germania se hai una Bibbia Eldafelda E' come la riveduta Senza alcuna dottrina biblica Dovrai procurarti una Bibbia di Lutero 1912 O un'altra Per trovare la verità E potremo andare in giro per il mondo La Bibbia armena è fantastica Ora stanno scrivendo una nuova versione Della Bibbia in Croazia Per la lingua serba Ma è corrotta con le traduzioni di Westcott e Hort Spero che oggi Abbiate capito Che ciò che leggete Fa la differenza Personalmente Mi piace la nuova King James Ma contiene un gran numero di errori Errori orrendi Alcuni che distruggono Alcune dottrine fondamentali Ma mi piace molto Perché la verifico con la King James E cancello gli sbagli La mia Bibbia è tutta cancellata e riscritta Mi piace perché mantiene la mia mente attiva Se vuoi usare un'altra traduzione Considera questi problemi Poi verifica i tuoi studi Con qualcuno di cui ti puoi fidare Il Textus Receptus Ha attraversato il tempo È stato quello che ha portato alla riforma Per cui la gente ha lottato Ed è morta Ed è quello che alla fine Farà la differenza Credetemi Sottotitoli e doppiaggio Carlo Fanni Lode a Dio